Via Caldera, Milano, Civil Week 2024, la libreria, la Caldera, biblioteca, anzi non libreria, biblioteca di quartiere, dentro a un caseggiato della cooperativa De Gradi e oggi è una giornata particolare perché appunto si apre qua la Civil Week e nella prima giornata di Civil Week veniamo a incontrare appunto una realtà come quella della libreria, della biblioteca, scusate, Caldera, che è la biblioteca di quartiere. Buongiorno, buongiorno, grazie di averci aperto le vostre porte, con più il piacere di parlare. Io sono Daniela e sono una volontaria coordinatrice diciamo della biblioteca La Caldera e prima ancora sono un genitore della fondazione Durante Noi, che è la fondazione che... Perché appunto ci sono tante realtà che girano contorno, no? Ci sono tante diverse realtà e tante diverse biblioteche di quartiere e ognuna nasce da delle situazioni specifiche. E cosa avete in mente per questa Civil Week? Inizia oggi, cosa avete pensato di fare? Noi oggi abbiamo fatto questa giornata aperta in collaborazione con tutte le biblioteche di prossimità del Municipio 7. Abbiamo deciso di aprirci in armonia tutte insieme questa giornata in modo che una persona può buttare un po' il naso in tutte. Biblioteche di prossimità, hai detto che cosa sono le biblioteche di prossimità? Biblioteche di prossimità sono sia biblioteche di condominio che biblioteche di quartiere che nascono appunto spontaneamente in spazi privati e gestiti da diverse realtà del quartiere. Noi appunto siamo una fondazione di familiari di persone con disabilità e in collaborazione con la cooperativa edilizia Ferruccio De Gradi, che ci fornisce gli spazi. Siamo quasi un caseggiato appunto della Ferruccio De Gradi. La forza. La forza. Due stanze piene di energia e di vita. Le stanzette. Beh, però insomma, belle e piene. Cosa sta succedendo in un'altra stanza? Nell'altra stanza sta succedendo una cosa molto interessante. Scusateci, abbiamo qua la televisione, abbiamo i ragazzi della casa famiglia Gerico di Baggio che sono venuti qui da noi per parlare oggi in particolare appunto degli articoli della Costituzione italiana insieme ai loro educatori e insieme ai nostri esperti. Vuoi dire due parole sulla casa? Eh, allora parliamo con Casa Gerico. Casa Famiglia Gerico. Ah, Casa Famiglia Gerico. Parlate tutti adesso perché mi spiegate bene di cosa stiamo parlando. Allora, Casa Famiglia Gerico è un centro socioeducativo nel quale le persone con disabilità adulte trascorrono le proprie giornate, dal lunedì al venerdì. E dove insieme costruiamo e partecipiamo ad attività scelte da tutti, dagli educatori ma anche dagli utenti del servizio. Eh, avete deciso di fare una cosa semplice. La Costituzione italiana non è per niente semplice. No, però noi con i nostri ragazzi parliamo spesso di diritti, parliamo spesso di diritti e parliamo di autodeterminazione, proprio perché nel mondo della disabilità circola poco. O meglio, c'è poco collegamento tra il mondo della disabilità e il mondo, diciamo così, esterno. E spesso troviamo, tra le persone con le quali lavoriamo, chi non sa di avere diritti e la possibilità, come dire, di metterli in campo e di metterli in gioco. Ma allora, ditemi un po', state imparando, eh appunto, fatemi capire, state imparando qualcosa oggi? Cosa vuoi dirmi? Stai imparando qualcosa? Io sto imparando... Come ti chiami, come ti chiami, con chi abbiamo il piacere di... Dammi una mano, Chris, sono emozionata. E io mi chiamo Ambra Valveri e sono annuncia. Non sono più una bambina piccolina, ma voglio diventare più grande di tutti, senza pari della dispettosa. Eh, questo è importante, Ambra. E queste sono attività che fate proprio tutti i giorni voi? Allora, noi facciamo, sì, facciamo attività varie, anche laboratori cognitivi, nello specifico anche il laboratorio, stiamo portando avanti proprio il laboratorio cognitivo, che sono dei momenti di gruppo in cui si discute proprio di questo. Si parla di questo, si parla di che cosa ognuna delle persone che partecipa a questi gruppi cognitivi ha la possibilità di raccontare che cosa desidera nella propria vita e che cosa vorrebbe fare. E quindi molto interessante questo, perché quindi non parliamo solo di libri, qualcuno legge fuori le biblioteche e dice ok, e invece no, qui parliamo di esseri umani, no? I libri sono una grande occasione, una grande occasione di incontro e di inclusione sociale, che è diciamo il discorso che a noi sta a cuore, è che queste persone si possano incontrare in luoghi pubblici, possono incontrare la gente comune, possano farsi conoscere, discutere e scambiare opinioni. È una situazione di relazioni sociali. Questa Civil Week 2024 è la prima volta che hai fatto la Civil Week? No, l'abbiamo fatta già anche l'anno scorso. Ah, per cosa vi spingi ogni anno a tornare? Abbiamo aperto giusto a novembre dell'anno scorso, è perché ci sembra un momento importante nella città di Milano, questo farsi avanti delle realtà sconosciute, in realtà, perché che lavorano, che si ritrovano e che esistono nel territorio. E allora, ecco, no, prego, con chiaro piacere? No, sono Ivano. Prego, Ivano, dimmi pure. Allora, la biblioteca nasce per sostenere e supportare l'associazione, no? Durante Noi, che è proprio qua di fianco, ed è un'associazione che ospita nei locali cinque o sei disabili, no? E quindi ha bisogno di essere sostenuta e conosciuta. Ed è per quello che la Fondazione De Gradi, no? Ci ha messo a disposizione questi due locali dove c'è questa bellissima biblioteca che, partendo dai bambini, perché sono ottimi frequentatori i bambini delle biblioteche, e partendo dai bambini riusciamo a coinvolgerli, ma anche far crescere la conoscenza durante noi. Ed è questa una cosa importante. Situazioni diverse, diciamo. Situazioni diverse. Situazioni diverse. 122 iniziative in tutta la provincia di Milano, in tutta la città metropolitana. Noi cercheremo di coprire il più possibile con Share Radio, con Milano News, grazie al CSV di Milano. Insomma, questo è quello che succede qui in Via Caldera, chissà poi, dove ci troveremo invece durante la giornata di oggi e durante le prossime giornate della Civil Week. A voi, grazie. Grazie.